Con oggi abbiamo reso noto l'operazione Cararmato che ha portato all'arresto in Romania e alla detenzione all'interno delle patrie galerie rumene di un autore di due ferrate rapine che si sono verificate nel Mantovano, una a Quistello e l'altra a Roverbella, nel 2015 febbraio e maggio. L'operazione è importante perché i carabinieri del nucleo investigativo diretti dal tenente Zanon, del reparto operativo comandato dal tenente Conolo Graci, in questi anni hanno continuato a seguire la vicenda, l'uomo era stato identificato all'epoca dei fatti e denunciato all'autorità giudiziaria. E' stato un processo incontumace, recentemente è stato condannato, a maggio scorso è stato condannato, 2018, per sequestro di persona, rapina aggravata dalla crudeltà a 9 anni e 6 mesi. E' stato spiccato un mandato di cattura dal Tribunale di Mantovano, concordando con le risultanze investigative e con le esigenze relative al fatto che è un uomo considerato estremamente pericoloso, perché fino allora mai più ritrovato e rintracciato nel territorio italiano. Da allora una squadra di ricerca latitanti, di catturanti, insieme al nucleo investigativo non ha dato trega a questo uomo. Ci siamo mossi sul territorio grazie anche agli uffici centrali di cooperazione internazionale, ci hanno permesso di localizzarlo recentemente proprio in Romania e lì l'uomo sconterà la sentenza, inizierà a scontare la sentenza di 9 anni e 6 mesi. Chiaramente dovremo poi aspettare gli altri gradi di giudizio per mettere una parola fine a questa brutta vicenda. Ci sono altri presunti membri di questa banda? Presumiamo che questa batteria che si muoveva nel nostro territorio all'epoca sia composta da altre due o tre persone, chiaramente stiamo ancora lavorando. Colgo l'occasione di fare un appello alla comunità mantovana e tutta la provincia e la città capoluogo di Mantova, tutti i cittadini che allorquando dovessero notare persone sospette e macchine sospette, invito tutti quanti a chiamare tempestivamente il 112 che è diretto dalla centrale operativa di Mantova, dei Carabinieri di Mantua diretta dal maresciallo Oscar Bottardi, il quale cercherà di inviare una macchina subito per bloccare e identificare gli autori. Anche perché la collaborazione del cittadino è fondamentale, e quindi noi Carabinieri ringraziamo, e io personalmente quale comandante provinciale Pro Tempore di Mantua, ringrazio tutti coloro che ci aiuteranno nel nostro lavoro. Grazie.